Ieri in Consiglio Comunale c'è stato un forte dibattito per quel che concerne l'appalto delle mense scolastiche, se ce ne vuole parlare. Allora, sulle mense scolastiche io penso, ero ancora segretario della Funzione Pubblica che avevo occupato una settimana in Consiglio Comunale, perché c'era ancora di piazza all'epoca. Sul problema delle mense c'è sempre il solito problema che il Comune pensa che appalta anche i bambini, non è così. Bisogna che il Comune si renda conto che sugli appalti di questa natura, così delicati, bisogna prestare la massima attenzione. Quindi questo appalto, come l'appalto delle pulizie, in questo appalto siamo alla fin fine, nonostante sia stato considerato un appalto con le offerte economicamente più vantaggiosa, siamo andati al massimo di basso. Tutte e due imprese concorrenti hanno beccato il massimo dei punti sulla parte tecnica e quindi cosa rimaneva? Solo le offerte economiche più basse. L'offerta economica più bassa di 3 milioni di euro su un appalto già complicato. Già adesso complicato perché le persone hanno un contratto di riferimento, lavorano tutte in part time, stanno correndo come matte. Allora ridurre ulteriormente le ore significa che se questi veramente saranno gli senatari di quell'appalto i bambini, i bambini, i genitori, avranno problemi enormi perché giustamente c'era una cuoca che ricordava che butta la pasta alle 11 di mattina per far mangiare, ma se alle 11 di mattina va a casa butta nessuna pasta. Quindi o i bambini si autocucinano da soli e butta la pasta a soli, oppure a fin fine come funzionerà l'organizzazione di lavoro in cui già a ore stringate vado a ridurre ulteriormente, questo lo sa. Quindi significa proprio un'incompetenza di fondo o una volontà diffusa di solamente risparmiare. Non si può risparmiare sotto un certo limite perché significa, non so, dove arriveremo? A far pagare le persone per andare a lavorare, come diceva Trieste. Grazie.